Anche se gioco a basket da quando ho 6 anni, in 18 anni con la palla a spicchi non ho mai provato un'esperienza come quella che andrò a fare stasera. Perciò venite con me, vi porto a Milano. Eccoci, vi ho portato al DaMoveCourt e adesso capirete il perché. Jolly Papi e i DaMove hanno organizzato la Hope Wheels Night, una serata dedicata al basket in carrozzina. Alcourt è arrivata anche una delle più grandi campionesse della nazionale italiana di basket femminile. Allora, i piedi messi di dietro perché se io avessi i piedi fuori non c'era un problema. Giusto. In più le ruote sono campanate, significa che sono unico. Se fossero unico, le ruote in questo momento mi piacerebbe spiattere la bolletta. Ok, vero. Poi davanti a questa parte si chiama baffo ed è praticamente per evitare il contrasto. E se ci fosse solo questa parte, io mi incastrerei e quindi poi non mi riesco più a... Ci sta, ci sta. I piedi vanno legati anche se non si utilizzano perché molti non hanno la sensibilità ai piedi e se i piedi fossero avanti si potrebbero far male e di conseguenza non se ne accorgerebbero. In tanti spingono solo dal cerchio spinta, ok? Però hai più presa se prendi tutta la ruota. Anche per frenare sentirete che quando proverete vi brucerà la mano proprio perché va a sfregare e la nostra mano non è adatta a fare questo tipo di contatto. Beh, adesso abbiamo imparato qualcosina, avveremo adesso come giocare e come sfidarci. Dobbiamo rubare una quadra. Primo tiro, eh. Ecco, questa è una regola fondamentale. Siamo pronti, siamo pronti. Eccola, la maglietta ufficiale di questo Hope Peace Night. Il primo giorno che si arriva e si gioca a una partita ufficiale in una commissione medica va a tutta i momenti che riesce e lo riesce a fare in caluzione. Quindi si riesce a chinarvi, a portare il busto e ti affida un punteggio che ti accompagnerà per tutta la carriera. Questo punteggio varia da 1 a 4,5, quindi 1, 1 e mezzo, 2, 2 e mezzo, 2 e 3 e mezzo. Io ad esempio sono un punti 4. I nostri punteggi servono perché la somma di 5 giocatori in campo non può superare i 14,5. Buona partita. Io ho messo il giocatore. Buona partita. Buona partita. Buona partita. Buona partita. Buona partita. Non va, non va. Sì È faticoso, c'è le spalle e si sente che stanno lavorando, però è un sacco divertente, non è vero. Adesso cinque minuti di riposo, diamo il cambio e poi siamo pronti a tornare dentro. Sì, è faticoso. Si, è faticoso. Si, è faticoso. La linea è tutto, è tutto a linea. È buona, è buona. È faticoso. Grande imbalzo. Contropiere facile. Inzaghi. Inzaghi non la dà parone. La prova. Si lotta, si lotta. Si, è faticoso. Si, è faticoso. Bello, bello. C'è ancora tempo. Ne esco tutto sudato ma col sorriso perché è stata davvero una figata questa giornata a provare il basket in carrozzina grazie a Jolly Papi qui al court a Milano. Vi giuro che nella partitella off camera ho segnato anche da tre e chi camacchi ha detto a me che ho una buona mano. E secondo voi cos'è la cosa più difficile nel basket in carrozzina? Scrivetelo nei commenti. Ciao.